eccomi qui ben ritrovati scatto dal satellite di oggi che ci mostra una profonda bassa pressione sull'islanda con perturbazione annessa sull'europa centrale ed un'italia senza nubi per il rinforzo dell'alta pressione la carta del tempo al suolo per le prossime ore ritroveremo la profonda bassa pressione sul nord europa tra inghilterra e paesi bassi bassa pressione che porterà con sé sul nord europa oltre a piogge temporali venti tempestosi sull'italia alta pressione in ulteriore rinforzo le previsioni per questo mercoledì bella giornata in tutto l'abruzzo con cielo in prevalenza sereno per le intere 24 ore ventilazione debole in rinforzo nella seconda parte di giornata da sud est sulle zone orientali da ovest su quelle occidentali mare poco mosso e temperature in generale aumento è tutto mi fermo qui al prossimo appuntamento